Hai dimenticato le guerre civili in Africa? Non riesci a ricordare milioni di vittime sfollate e rifugiati? Prova AFRICORD! Perché ricordare fa bene alla coscienza. Ma se vuoi fare qualcosa di più concreto, scegli di agire per l'Africa. Dai una mano alle popolazioni colpite dai conflitti in Sudan, Congo e Somalia. Invia un SMS o telefona da rete fissa al 48 541. Ricordare fa bene alla coscienza. Agire fa molto di più. Hai dimenticato le guerre civili in Sudan, Congo e Somalia? Prova AFRICORD! Oppure scegli di agire per l'Africa. Invia un SMS o telefona da rete fissa al 48 541. Ricordare fa bene alla coscienza. Agire fa molto di più.